Cudere entra a far parte dei veicoli dell'arma dei carabinieri con il fine di pattugliare le strade costiere della provincia di Lucca e di Rimini per l'estate 2018. La cerimonia di consegna di due veicoli incomodato d'uso gratuito si è svolta all'interno del parco del comando generale dell'arma a Roma. I mezzi sono in grado di operare su terreni difficilmente percorribili da altri veicoli. Il Cudere infatti unendo il meglio del mondo dell'auto con quello delle motociclette risulta estremamente stabile su ogni tipo di strada anche la più dissestata. Il mezzo ora a disposizione dell'arma può vantare il sistema brevettato che gli consente di inclinarsi come una moto due ruote ma di mantenersi aderente all'asfalto grazie alle sue quattro ruote da 14 pollici garantendo la sicurezza dei cittadini grazie a interventi tempestivi ma anche dei carabinieri chiamati a intervenire. Come ha sottolineato il capo di stato maggiore del comando generale dell'arma dei carabinieri il generale di divisione Enzo Bernardini. A questo sistema rivoluzionario l'HTS che si chiama l'Hydraulic Tilting System c'è un sistema che non fa cadere in mezzo anche in condizioni di estrema inclinazione e quindi il personale può operare in urgenza può operare in sicurezza e può arrivare prima sul luogo dove richiesta la sua presenza. Si avvia così una partnership importante tra carabinieri e Quadro Vehicles la casa produttrice di Cuder presentato all'ultimo salone di Ginevra rivolta alla sicurezza e alla stabilità su strada così come nello spirito di questo veicolo che già guarda il suo sviluppo con motore elettrico. Il CEO di Quadro Vehicles Paolo Gagliardo. Visto che siamo in lancio di questo prodotto abbiamo pensato di testarne la sua abilità, le sue capacità in tutte le circostanze e quindi questa dei carabinieri probabilmente è quella più importante perché risolve tangibilmente dei problemi concreti dei clienti quindi è una testimonianza reale del valore e della rilevanza del prodotto nei confronti di chi lo acquista.